Draghi, basilischi, rettili fantastici, sono questi i protagonisti della mostra immersiva Le prigioni della mente, visitabile a Feltre dal 10 agosto al 31 ottobre negli spazi delle antiche prigioni veneziane. Il tema della mostra sono tutta una serie di creature che fanno parte del nostro immaginario collettivo, che entrano a far parte di leggende e tradizioni popolari anche feltrine di tutto il nostro territorio, sono appunto creature che sono presenti anche in stemmi delle nostre famiglie feltrine e che tradizionalmente hanno sempre personificato, simboleggiato il maligno ma in particolar modo anche se vogliamo le paure e quindi vederle e poterle assaporare in una dimensione immersiva e multisensoriale all'interno di un contesto come quello delle antiche prigioni crea sicuramente un'atmosfera particolarmente suggestiva e unica. L'esposizione è una delle attese anteprime del Festival dell'Araldica di Feltre, in programma per le prime due settimane del prossimo ottobre e che si proporrà di esplorare il mondo degli stemmi e il loro linguaggio di figure, segni, simboli e colori. Sicuramente il Festival dell'Araldica è anche un riconoscimento alla valorizzazione del nostro patrimonio. Infatti Feltre è uno dei territori più ricchi da questo punto di vista di stemmi araldici. Abbiamo appena chiuso anche da poco il paglio e questa mostra rafforza ancora di più il legame con la città di Venezia che ci ha patrocinato questa iniziativa. Grazie a tutti.